Teledurruti Fulvio Abate hai presente quando stai in bagno e squilla il telefono ti alzi rispondi e ti dicono che ti dicono pronto telefono aspirapolvere ecco 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 l'aspirapolvere se non è l'aspirapolvere i telefoni gestore telefonico fai il gestore telefonico pronto chiamo Vodafone compra il telefono di 29 euro no non chiedono non vendono il telefono vendono la tariffo telefono chiamano e dicono rifarli pronto Vodafone prima dicono e lei signore abbato tariffo telefono forte e tu ti rompi il cazzo io ho una soluzione da suggerire dice come ti dice pronto signore Fulvio Abate no non è il signor Fulvio Abate è un pompe funebri mi dispiace stiamo fra l'altro componendo una salva o a quel punto immediatamente facetelo anche voi quando vi chiamano per una comunicazione commerciale dite mi dispiace ha chiamato in un negozio di pompe funebri stiamo componendo una salva ok va bene come soluzione ok 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 scusi scusi dicono Fulvio Abate grazie a mia figlia Carla oh ringrazio grazie no grazie l'ho detto io tu hai interpretato la telefonista albanese come fa la telefonista albanese? appunto lei signore Abate tariffo telefono comprare ciao ti ridurruti